Amici di MondoBlackBerry.com, in questo video qui vedremo come il BlackBerry Playbook gira video, ovviamente in formato HD 1080p. Qui è un video girato all'esterno, grazie mille, seguiteci sul sito www.mondoblackberry.com, se volete iscrivetevi al canale. Buonasera amici di MondoBlackBerry.com, sono Gennaro, alias GeniSmart88, in questo video qui vedremo come gira i video a 1080p il BlackBerry Playbook in ripresa notturna. Se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro sito, un abbraccio, alla prossima. Amici di MondoBlackBerry, buonasera, sono Gennaro, alias GeniSmart88, in questo video qui vediamo come il BlackBerry Playbook registra video a 1080p in ripresa da interno. Ovviamente abbiamo già visto come riprende negli esterni, in questo caso qua vediamo come si comporta la ripresa video interna. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, ovviamente seguiteci su www.mondoblackberry.com, un abbraccio a tutti gli amici, buonasera. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.